Una sentenza che negli uffici della società impianti SRR non è passata sicuramente inosservata. La Corte di Cassazione si è appena espressa su un tema che per il servizio rifiuti nei comuni dell'ambito è diventato fondamentale. I giudici romani hanno stabilito che sono nulle le assunzioni effettuate da società a controllo pubblico senza passare da bandi. Quindi l'amministratore delle impianti, l'ingegnere Giovanna Picone, spiega che la linea assunta dalla società che ha ottenuto l'affidamento del servizio rifiuti in tutti i comuni dell'ambito è sempre stata rigorosa. Picone, il presidente dell'SRR4, Filippo Balbo, hanno attivato un passaggio di gestione che per ora falleva solo su assunzione a tempo determinato, comunque attraverso società interinali. Niente assunzione a tempo indeterminato da parte di impianti come invece chiedono a gran voce i sindacati. Secondo l'ingegnere che la scorsa settimana ha avuto un confronto con l'ispettorato del lavoro, la decisione della Cassazione va a rafforzare la linea già adottata. Attualmente il nuovo servizio in house è partito a Butera e Delia e in procinto l'avvio anche a Mazzarino e Niscemi, allo stato della comune più grande. Picone parla di mesi di contrasti, di indecisioni e di tavoli tecnici nei quali la posizione delle impianti e dell'SRR4 è sempre stata rigida e decisa nonostante i continui attacchi, dice da parte delle sigle sindacali locali che rivendicano assunzioni dirette a tempo indeterminato. Parla anche di giudizi da parte dei sindacati che ritiene oltraggiosi. Conferma quindi che la linea posta dalla Cassazione con la recente sentenza va incontro a quanto deciso proprio dalla impianti SRR e dalla SRR4. L'amministratore delle impianti conferma che in questa fase si procederà sempre attraverso forme contrattuali che passino da un rapporto con società interinali senza assunzioni dirette. È convinta comunque che verranno garantiti tutti i livelli già acquisiti dai lavoratori, le mansioni e tutti i benefit di diritto. Dopo il passaggio al servizio in house anche dei comuni di Niscemi, Sommatino e Riesi, il programma prevede la pubblicazione del bando per le assunzioni delle unità previste per il servizio di raccolta e di trasporto e per quelle destinate alla gestione degli impianti. Tra i punti interrogativi piuttosto pesanti rimane solo quello della comune di Gela. L'amministrazione comunale in questi mesi ha sempre cercato di avere riscontri su una soluzione alternativa all'in house delle impianti che non ha mai convinto il sindaco Lucio Greco. La scorsa settimana in consiglio comunale l'avvocato ha ribadito che attende riscontri sull'ipotesi della gara mentre a fine marzo scade la proroga a Tecra. Picone su questo fronte non ha elementi precisi. Spiega che per il comune di Gela c'è ancora un'attesa per ricevere indicazioni dalla SRR appunto dal sindaco Greco. Un caso a parte invece pare essere quello del comune di Piazza Armerina. Bisognerà aspettare in questo senso la scadenza naturale della gara affidata alla ditta che attualmente gestisce il servizio. Il lotto del comune Nese infatti fu tra i pochi ad essere assegnato dopo una gara.